Salve sono urbano della Sani Nureno Volkswagen Audi di Fuccecchio, oggi vi presento la nuova arrivata del nostro parco vetture usate, si tratta di questa bellissima Audi A4 dell'anno 2018 ed è 2.000 turbodiesel 150 cavalli allestimento business con cambio S-Tronic, intanto andiamo a vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna di questo bel colore grigio altra scelte e come potete ben vedere si presenta sempre in un modo veramente eccellente, bella e brillante. E adesso andiamo anche a vedere le specifiche, gli accessori della nostra vettura. Partiamo dalla zona posteriore dove abbiamo i sensori di parcheggio, quindi posteriori, sensori di parcheggio anteriori, fari Xenon, cerchi in lega da 16 pollici abbinati alle sue gomme estive sempre ottime da sfruttare. Abbiamo poi i quattro interruttori per i vetri elettrici, l'interruttore per la regolazione elettrica degli specchietti esterni con in più la possibilità di farli ripiegare e naturalmente aprire elettricamente. E passiamo anche a vedere l'interno della nostra vettura. Partiamo dal dal cruscotto in generale, bellissimo da vedere, non ci sono graffi, non ci sono usure, proprio veramente molto molto bello. Sulla console centrale poi abbiamo il suo pomello del cambio automatico con tutte le varie marce, le doppie chiavi, tutti gli interruttori per le varie regolazioni. Partiamo dal suo navigatore, abbiamo poi il bluetooth, abbiamo sul volante anche il comando vocale, quindi per richiamare sempre l'autoradio e poi comunque il menu totale dove posso avere i dati della vettura sotto controllo, sempre il navigatore, quindi tutte le nostre funzioni. La messa in moto con il pulsante, quindi quella facilitata, senza inserimento delle chiavi, climatizzatore automatico a tre zone. Cosa vuol dire? Abbiamo il bizona anteriore e la zona anche posteriore, possiamo modificare la nostra temperatura nella zona posteriore. Volante anche multifunzione. Cosa significa? Oltre ad avere, come abbiamo visto, l'interruttore del comando vocale per l'autoradio, abbiamo anche le palettine per avere il cosiddetto cambio manuale. Passiamo al chilometraggio. Solamente 83.800 chilometri. Quindi pochissimi. Quindi una vettura tutta ancora da sfruttare. Naturalmente manutenzione pienamente dimostrabile. Passiamo anche a vedere la nostra tappezzeria interna. Di questo bel tessuto nero. Non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono tra l'altro molto importanti buchi di sigarette, perché il precedente utilizzatore non fumava. Quindi si presenta veramente in un modo eccellente. Comunque, come il nostro solito, la tappezzeria interna è stata lavata ed pulita ed igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. E quindi il risultato è quello che potete vedere. Bella, pulita, profumata, quindi un'accoglienza all'interno del nostro abitacolo eccellente. Ed anche il vano bagagliaio si presenta in un modo eccellente. Ha avuto il solito trattamento della tappezzeria interna, quindi pulito e lavato a vapore. Abbiamo poi tra l'altro il suo sedile sdoppiato, il suo kit di emergenza, perché sotto il pianalino abbiamo la sua batteria della macchina. Quindi non c'è possibilità di mettere il ruotino di scorta. E anche il nostro vano motore si presenta in un ottimo modo. Come potete vedere abbiamo tutte le sue parti al loro posto, a partire dalle plastiche superiori, a partire da tutti i suoi tubi in gomma, connessioni elettriche. Quindi un vano motore, come si usa dire, preciso. Anche perché le nostre vetture, prima di essere messe in vendita, vengono sottoposte ad un accurato controllo seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi affidabile. Ci viene poi abbinato 12 mesi di garanzia con la possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati a tassi agevolati con più soluzioni che vi saranno spiegati in sede nel caso ce ne fosse bisogno. E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo avanti a fare un giro un giro di prova su strada. E nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è proprio l'accoglienza all'interno dell'abitacolo. Bello, pulito, profumato, tutti i componenti al loro posto. A cosa serve il nostro giro di prova? Serve a capire il funzionamento generale della nostra auto. Ecco, intanto, ripeto, abbiamo il cambio S-tronic e quindi non abbiamo il pedale della frizione. Le frizioni sono all'interno del cambio. Il cambio si comporta in un modo eccellente. In partenza bello, soffice e morbido. Non ci sono strattoni. Le cambiate sono veramente precise. Assetto stradale anche questo buono perché la vettura va veramente dritta su strada e non ci sono vibrazioni. Mentre la scatola di guida, che in questo incrocio la dobbiamo girare parecchio e quindi sollecitare, la sento leggera, precisa, senza nessun tipo di gioco. Quindi guidabilità generale buona. Andiamo a sentire il lavoro delle nostre sospensioni nella classica strada con le buche. Ebbene, sentiamo sì il funzionamento, quindi il loro lavoro, ma all'interno della vettura è veramente silenzioso. Tutti i componenti sono stati controllati già, quindi è totalmente funzionante, quindi pronta per essere acquistata e guidata. Tra l'altro, una cosa importante da dire, se abitate lontano dal nostro punto vendita in un primo momento, impossibilità di avvenire personalmente. Possiamo prendere un appuntamento telefonico e con una videochiamata spiegarvi ogni punto della vettura. Regi e difetti, affinché quando deciderete di venire personalmente la vettura la conoscete già. Basterà solo rivederla insieme e naturalmente è molto importante provarla su strada. Anche la meccanica è ottima, silenziosa, brillante, perché con i suoi 150 cavalli abbinati al cambio Assetronic ha un comportamento stradare davvero ammiraglia, molto molto scorrevole su strada e anche in più molto parca nei consumi. Quindi un'ottima vettura per viaggiare. Dopo queste notizie, torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook, Instagram, al nostro indirizzo sani.srl. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Fuscecchio oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre, alla prossima vettura! Grazie a tutti!